In provincia di Lecce, Autovelox e Fotored nel 2022 hanno fatto incetta di sanzioni con un conseguente cospicuo introito per i comuni. I numeri sono da brivido, salvo qualche rara sorpresa. Il totale delle multe incassate nel 2022 ha superato i 23 milioni di euro, di cui oltre 22 sono andati ai comuni su un totale di 85 esaminati e circa 970 mila euro alla provincia, con un incremento di circa 5 milioni rispetto al 2021, quando l'incasso congiunto di comuni e provincia si era attestato intorno ai 17,5 milioni di euro. A spiccare maggiormente è stato il comune di Cavallino, con un aumento degli introiti pari a oltre più 1200%, passando da circa 223 mila euro incassati nel 2021 a quasi 3 milioni nel 2022. Incassi incrementati anche per il comune di Lecce, più 48%. Rispetto al 2021 hanno registrato un deciso aumento anche i comuni di Surbo, Squinzano e Trepuzzi, incassi quasi raddoppiati per Porto Cesario, che nel 2021 aveva incassato circa 225 mila euro, mentre nel 2022 è arrivato a 415 mila. In controtendenza il comune di Melpignano, che ha avuto una netta riduzione degli incassi, passando dai quasi 5 milioni introitati nel 2021 a circa 3 milioni nel 2022. Sul tema è intervenuto il Codacons di Lecce, che auspica come l'utilizzo degli autovelox non sia finalizzato solamente a far cassa, ma che i proventi delle multe siano destinati alla sicurezza stradale senza eccezioni. Ed evidenzia poi come sia necessario fare verifiche a tappeto sulla corretta installazione di autovelox e fotored sulla presenza di una segnaletica adeguata per verificare che i limiti di velocità non siano stati modificati artificiosamente per favorire le infrazioni e per creare delle vere e proprie trappole per gli automobilisti.